Gianni, perché per lo spazio della Marcord, per ricordare un giocatore legato al Bari, ma anche alla squadra che andiamo ad affrontare, oggi davvero prendiamo il massimo, perché abbiamo in collegamento telefonico con noi forse quello che, per quanto Protti poi abbia segnato tantissimo, 24 gol, nell'immaginario dei baresi rimane il bomber per eccellenza. Te l'ho detto prima, che dopo 80 partite hanno fatto 41 gol, mezzo gol a partire. Lucio Mujesan, 86 partite, 41 gol con la maglia del Bari, poi ha giocato col Bologna. Noi lo salutiamo, buona serata, buon pomeriggio Mujesan. Buon pomeriggio a voi. Ciao Lucio. Ciao Gianni. Come sta innanzitutto, tutto bene? Tutto a posto. Vive dove? Dalle parti di Bologna? No, io mi sono ritirato in campagna tra Rezzo e Siena, Monte San Savino. Monte San Savino, pace proprio assoluta immagino, verde e pace. Tranquillità assoluta, anche troppa. A Bari invece non era tranquillità, era come dire, era brivido a Bari, no? Ma a Bari penso che sia una cosa, almeno per me è stata una cosa unica. negli anni che ho girato mi sono trovato benissimo, un pubblico meraviglioso, appassionato e è sempre un piacere parlare con voi. C'è Gianni Antonucci. Ma vedi, Mujesan e proprio con Matteo Salimante di cui parlavamo prima, allora arbitrava. Poi parliamo di 40 anni fa, eh? E anche di più. Gianni, vuoi salutare Lucio? Beh, io della verità stamattina ci siamo sentiti e abbiamo ricordato 45 anni fa, nel 66, quando stavamo insieme a fare il ritiro a Campobasso. A Campobasso. Ti ricordi che Toneatto ci faceva mangiare ad acino ad acino l'uva? Sì, sì, ad acino ad acino. Lui non ce la faceva più, anche Galletti, perché io poi li ho battezzati, attenti a quei due, come Tony Cortis e Roger Moro, che praticamente fecero la serie di attenti a quei due. E loro due, una volta, un campionato, lui segnò 19 gol e Galletti 12. Tu immagini se fosse stato quest'anno? Immagina, immagina. E poi c'è stato, non so se ora vedremo, c'è la premiazione di Lucio Mujesan dal sindaco allora di Bari, il compianto Trisorio Liozzi. Eccolo qua, falla più grande questa fotografia, falla vedere meglio. Mazzoni da vicino, vedi, ecco qua, vedi ci sta il compianto Filippo Nitti, il professor De Palo, e ci sono tutti, ecco, Toneatto, vedi, si intravede a destra, anche il professor Nerini che era il medico sociale. Sono, come dire, foto d'epoca ma di ricordi meravigliosi. Ecco, Mujesan, il ricordo più be, un ricordo in particolare, immagino che ha vissuto tante belle giornate a Bari, insomma, qui vediamo una media spaventosa, un gol ogni due partite, credo che nessuno abbia fatto, anzi il professor diceva che nessun giocatore del Bari ha segnato così tanto in media. Ma dovesse proprio estrapolare un ricordo, una foto, un'immagine che non dimenticherà mai qual è? Vediamo che è quello che dico io. Di ricordi ce n'ho moltissimi, ma penso che forse il più bello sia una partita quattro domeniche dalla fine, Bari-Pisa, quando poi perdiamo il campionato purtroppo, 15 giorni dopo con il Verona in casa. Ma il 4-0 con il Pisa era uno spettacolo. Luce, per me il miglior gol tuo, anche se è stato un'impresa irripetibile, è stato contro il Padova, quando vincemmo 2-0. Eh, ma ne ho fatti tanti di gol. Che lo facessi dalla bandierina per poco, alla Mortensen. Alla Mortensen. Gianni, qual era la specialità di Mujesan, una cosa che gli riusciva meglio? Beh, innanzitutto aveva una prestanza. Tanto è vero che addirittura, allora ci si consigliava, eravamo tre o quattro giornalisti, si consigliava con Toneatto. Lui era stato preso da Lavellino per fare il centravanti. Naturalmente il Bari si ritrovava in casa anche Galletti, che l'aveva portato già dai tempi della Serie A del 63-64. Allora, diciamo, cerchiamo di, Toneatto studiò il sistema, di far giocare a due punte. Però, allora c'erano i numeri, i numeri, e gli avversari cadevano nell'imboscata perché Mujesan era col numero 10. E se pensava che fosse una mezz'ara, invece era vera punta, che dava a una dietro l'altra bastonate da morire. Conferma tutto? Conferma tutto, come dice Gianni? Ma do pienamente ragione a Gianni Antonucci. Perché io mi ricordo sempre che si giocò una partita di Coppa Italia con il Milan in casa, a Bari, che ci pareggiò 1-1, e mi marcava tra battoni. Sì. Ecco. Quindi, dopo un quarto d'ora feci gol, e poi siccome Rocco era di Trieste, nel rientrare nei spogliatoi, in dialetto mi disse, ma quale mezz'ara? Tutti quanti la mezz'ara, ma te non sei mica la mezz'ara. E io gli dici, ma quando è mai ho giocato mezz'ara io? Beh, questo è il calcio di una volta, addirittura, insomma. Sei di luce, tu resti nella storia del Bari. Io penso modestamente di averti dedicato anche alcune pagine importanti. Io ti manderò anche il CD di questa trasmissione e la... come dire, la terrai nei tuoi ricordi più belli. Ma nei ricordi più belli c'ho già un tuo libro, che quando sono venuto giù per festeggiare, che ero i 90 anni del Bari o i 100, ora non me lo ricordo perfettamente. C'ho anche un tuo libro. Quanti anni ha oggi Mujesan? Io? Sì. Troppi. Troppi, va bene, la so. Se facciamo il conto sono 68. È nato l'11 gennaio del 1943. Beh, è giovane ancora, è giovane. Sì, sì, sì. È giovane. Potrei venire a giocare nelle vecchie grove. Va bene, va bene. C'ho un ginocchio purtroppo che non... C'ho qualche giorno di differenza di Rivera. Ma Dominica gioca ancora a calcio? No, alleno dei ragazzini. Alleno dei ragazzini, va bene. Speriamo che alleni un centravanti buono per il Bari, perché a noi serve un centravanti. Ma finora sono riuscito a trovare solamente un portiere buono. Chi è? Sì, e ora giocano i ragazzi dell'Empoli. Ah, dell'Empoli, va bene, va bene. Un ragazzo del 95. C'è tempo. Un abbraccio forte a Lucio Muglie, San Grazie per essere stato con noi a Telebari. Grazie a voi e un saluto a tutti. Ciao, Lucio. Ciao, auguri. Bocca al lupo di tutto. Grazie. Grazie, grazie. Beh, devo dire che mi hai fatto in mente una cosa e più chiudiamo la trasmissione. L'unico aspetto positivo dell'elettrocessione in Serie B, di questa elettrocessione drammatica in Serie B, che in Serie B pare che l'anno prossimo passi una riforma al contrario, per la quale le numerazioni delle maglie tornano ad essere dall'1 all'11 in Serie B. Cioè non esiste più la 28, l'unica cosa positiva, l'unica, ma proprio... Io sono 99, 69, 75, ma... Gianni abbiamo chiuso. Va bene. Vuoi salutare? Allora, che devo dire? Devo dire, speriamo bene per l'anno prossimo, ci rivediamo, può darsi che durante l'estate se c'è qualche cosa... Dobbiamo trovare un'idea però, perché di Bari Gubbio non c'è un precedente, ad esempio. Ecco, ma... No, c'è un amichevole. Bari Gubbio, fantasma, allora abbiamo... Un amichevole? No, perché noi con Rossi, quell'anno che vincemmo il campionato di Serie C, la prima amichevole la giocavamo a Gubbio. Allora abbiamo materiale anche per l'opera. Sì, sì, sì. Grazie, professore Antonio Giacomo, grazie per la disponibilità, come sempre. Grazie, grazie assai. Ricordo il Biancherosso, l'ultimo minuto, anche domenica a Bologna, partita che inizia le 18, saremo nei minuti finali della partita e poi le vostre telefonate e le voci dei protagonisti su Radio Bari 88.8 della modulazione di frequenza. Grazie. Ciao. Grazie Gianni. Auguri a tutti quanti e a tutti gli amici che mi vogliono bene. Buon fine settimana. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.